Cura dei bambini, un nuovo reparto per la post neonatologia a San Carlo di Potenza grazie alla fondazione Rosangela D'Ambrosio. Una nuova area di degenza post neonatale verrà realizzata nell'ospedale San Carlo di Potenza grazie ad una donazione della fondazione Rosangela D'Ambrosio. L'ospedale potrà disporre di questa struttura dedicata a piccoli pazienti con patologie particolarmente complesse. Stefano Mariano. È una terra di mezzo, ci ha spiegato il direttore generale dell'ospedale Rocco Maglietta, nella quale i bambini hanno più di 30 mesi e non possono più essere curati in neonatologia, ma non hanno ancora un'età pediatrica. E la gestione dell'urgenza e emergenza per questi piccoli pazienti complessi richiede un'elevata intensità di cure. Per loro nascerà questa particolare area di degenza, accanto all'unità di terapia intensiva neonatale. In quest'area vengono queste tre specialità, la pediatria, l'enotologia e l'anestesia e le animazioni, si mettono insieme per poter curare questa fetta di persone. Ciò sarà possibile grazie alla Fondazione Rosangela D'Ambrosio, che ha firmato l'accordo con la direzione del San Carlo. La donazione è chiave in mano. Per ora le risorse che avevano sono in circa 60.000 euro e sono capaci di mettere in campo un solo postoletto. Però c'è la predisposizione per il secondo postoletto e appena possibile sarà attivato anche l'altro. La Fondazione, nata nel 2010, ha lo scopo di ricordare Rosangela, prematuramente scomparsa a soli 23 anni. Portata avanti dai genitori originari della Basilicata, la ONLUS promuove la realizzazione di interventi di sostegno in favore di bambini che vivono in condizioni umane e sociali disagiate.